Dal sogno alla coscienza del vivere, un viaggio dentro l'illuminazione della mente, un giro di trasferimenti dall'illusione alla concretezza del vissuto. Le poesie piuttosto i racconti poetici di Valeria Dalbo in questa raccolta onirico blues sono una successione di immagini. La sorgente sono i sogni, il mezzo di trasporto nella vita reale sono le parole. Non è però una questione di contenuto e soprattutto una questione di ritmo, un ritmo che scivola tra desiderio e contraddizione.